Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi su Snapchat vi ho fatto decidere, quindi questo video l'avete deciso voi ed è il video sui preferiti del 2016, quindi per ogni categoria vi parlerò di tutti i prodotti che ho usato di più che mi sono piaciuti, che ho trovato spettacolari in tutto il 2016 Direi di iniziare con i corret... anzi no, iniziamo con le basi Allora, i primer, come sapete non sono una grande fan dei primer e molto spesso non li uso affatto nei miei trucchi, nei miei tutorial, ma anche nella vita quotidiana So, ci sono però dei prodotti che mi sono piaciuti nel 2016 Il primo è il Hangover Primer di Too Faced, questo mi piace perché è più che un primer siliconoso Avete presente quei primer siliconosi che mi danno tanto l'effetto di pori ostruiti e di pelle che non respirano? Non riesco ad usarli, se non in un'occasione proprio super super speciale, ma per la vita quotidiana no Invece questo è più una crema idratante molto leggera che fa appunto da primer per il fondotinta ma non ha siliconi schifezze varie Quindi mi sono trovata molto bene Altro primer con cui mi sono trovata bene, questo l'ho usato un po' meno perché l'ho scoperto tipo a novembre E' il Make Up For Ever Step One Skin Equalizer Anche questa non contiene schifezze e non è una roba siliconica eccetera Ma fa da base al viso senza appesantirlo, senza dare effetto mascherone, pelle che non respira E poi c'è il... questo non è proprio un primer Questo è il The Porefessional License to Blot di Benefit Ed è uno stick opacizzante Questo l'ho usato primavera e estate, quando la mia pelle diventa lucida come uno specchio E' imbarazzante Questo mi ha salvato la vita Cosa faccio? Come l'ho usato praticamente prima di iniziare a truccare la pelle Passo questo stick sulla zona di fronte, naso e mento E vi garantisco, a volte se ho la pelle molto molto grassa, mi sta grassa Ne stendo un po' anche i lati del naso verso le guance Aiuta molto a mantenere appunto la pelle opaca Perché, cioè, io detesto avere la pelle oleosa E di un imbarazzo mi imbarazza un sacco Sono una grande fan dei correttori liquidi Si sfumano più facilmente Solitamente li trovo in tonalità anche più chiare, non so perché E tre sono i correttori che mi sono piaciuti Il primo è l'Absolutely Flawless di Too Faced E sono disperata perché tipo non lo fanno più E io l'ho finito, mi piacerebbe tanto poterle ricomprare un altro Ma se li trovate fate scorta perché veramente poi non si troveranno più Un altro correttore che è andato un po' a sostituire l'Absolutely Flawless E' il Born This Way di Too Faced Con questo mi trovo molto bene Hanno un range di tonalità pazzesco C'è anche la tonalità morto Che è quella che uso io Che in realtà è la Very Fair Quindi molto chiaro Si sfuma che è un piacere E' super naturale Però vorrei che fosse un pochino più coprente Un altro correttore Questo lo sto usando ancora adesso E anche questo l'ho scoperto tipo ottobre, novembre E mi piace moltissimo Lo so anche nell'ultimo tutorial E' l'Ultra HD L'Ultra HD di Make Up For Ever Questo è più coprente rispetto al Born This Way Anche questo è molto chiaro La mia tonalità è R20 Poi per logica passiamo alle ciprie Allora ci sono ciprie che io uso più in estate, primavera Quando appunto la pelle è più mista E ciprie che uso un po' più in inverno Quando invece la mia pelle diventa più secca Non lo so Cioè già è sfigata Poi cambia pure Una cipria con cui invece mi trovo bene sempre E questa è la Paul Poudre Premier Io e il francese non andiamo d'accordo Di Givenchy Questa l'ho praticamente finita E' una cipria in polvere libera Ed è trasparente Amo le ciprie trasparenti Non mi devo preoccupare del colore E sono opacizzanti Al punto giusto, non troppo E poi, e non fanno effetto mascherone Cosa molto importante Poi, altra cipria che io veramente Io questa cipria la adoro Da quando ho iniziato a truccarmi Praticamente, cioè da quando è uscita Questa è la HD di Make Up For Ever Lo sapete, vi parlo di questa cipria Da decenni, da millenni Però è fantastica Cioè è invisibile Non si vede E' trasparente Va bene su tutti i tipi di pelle Ed è opacizzante Davvero opacizzante Cioè non vi lascia andare in giro con la pelle lucida L'unico problema di questa cipria è che è svolata Ovunque, infatti preferisco la versione compatta Che c'è C'è anche la versione compatta Adesso non so dove sia L'ho persa, tipo Altra cipria che invece mi piace un po' più Nella stagione più fredda Quando la mia pelle diventa più secca E di questa vi ho parlato nell'ultimo tutorial Questa è la Pau de Lumière Oiginelle Lascia un velo di luminosità alla mia pelle Che in inverno veramente non guasta affatto E poi è leggermente rosata E quindi dà un tocco Non di colore Ma non lascia la pelle spenta Ecco, quindi amo questa cipria È una formulazione super particolare Che non avevo mai visto Credo fosse edizione limitata Ma se la trovate dateci un'occhiata Sfocciatela almeno Perché è fantastica Voi lo sapete Io sono una grande fan del contouring Lo faccio sempre Ogni giorno Cascassa il mondo Io faccio il contouring Ultimamente lo sto facendo anche al naso Perché mi sono fissata Quindi sto peggiorando con il tempo Bene, ci sono tre terre Che io ho usato molto molto In quest'anno passato La prima E anche qui non vi stupirete È la Hula di Benefit Io non mi soffermo nemmeno su questa terra Lo sapete È un colore che sta bene a tutti Ne ho avrò finiti 50 di packaging Di questa terra È opaca È fantastica Veramente Fa delle ombreggiature pazzesche Si sfuma Che è un piacere Altra terra che ho amato Inaspettatamente Un giorno ce l'ho presa Così l'ho provata Fantastica Questa è di Diego della Palma Nocciola Contouring Blush Più Eyeshadow Io non l'ho usata come ombretto L'ho usata solo come terra Numero 71 Questa sembra più un blush Forse per chi è scuro di cannagione Può essere più un blush L'ho usata appunto Solo come terra È fantastica È super naturale È perfetta per la mia cannagione Questa la uso solo in inverno Quando sono pallida Perché altrimenti in estate Con un po' di abbronzatura Non si vede È molto chiara Ma chi è molto chiara Di cannagione Sa che è difficile trovare una terra Che non ti faccia quel Effetto riga Marrone scuro Da indiana Quindi Pelle rossa Quindi Questa mi è piaciuta molto E poi anche questa Si sfuma molto bene Tutta rigorosamente opache E poi un'altra Anche questa Mi avete visto usarla Però io in questo video Sto inserendo effettivamente I prodotti che uso Sempre Quindi magari qui e là In qualche tutorial Già li avete visti Ma sono prodotti Che io amo davvero E questa è la Too Faced Chocolate Soleil Uso sia la milk chocolate Che la chocolate La chocolate Devo sfumarla un pochino di più E ne applico un pochino di meno Ma posso fare il contouring Con entrambe Questa Allora A parte che Ha un profumo di cioccolata Buonissimo Che non guasta mai Veramente È come fare il contouring Con il cacao È fantastica Insomma Sono tutte e tre Veramente terre opache Che si sfumano molto bene Che si sposano bene Con il colore della mia carnagione Insomma Ah Ho saltato i fondotinta Cioè Rimbambita Completamente I fondotinta Che ho amato Quest'anno Sono tre Allora Iniziamo con lui Che forse è il vincitore Su tutti Questo è il Born This Way Di Too Faced Allora Questo Non so se si riesce a vedere Ma l'ho usato Fino alla fine Cioè Non c'è più Veramente No Non mette a fuoco Non c'è più Non ce n'è più una goccia Di questo prodotto E l'ho usato In una tonalità diversa Anche in estate Anzi In due tonalità diverse Quando stavo diventando Più scura in estate E poi invece In inverno La mia tonalità È la Porcelain Amo questo fondotinta È coprente al punto giusto Se avete qualche brufoletto Ve lo copre Ma è Super naturale Cioè non si vede addosso È fantastico Questo fondotinta Ha una formulazione Pazzesca Quando vi dicevo Di prodotti Che sponsorizzo Ma che amo Cioè Genuinamente Questo è un perfetto esempio Ho sponsorizzato Il Born This Way E penso davvero Che sia uno dei migliori Fondotinta Esistenti al mondo Poi Ora questo è un altro fondotinta Che mi piace molto Come formulazione E ce l'avevo da un po' Ma ho potuto usarlo Soltanto la scorsa estate Perché purtroppo È troppo scuro per me È veramente marrone Per me in inverno Ma era il colore Perfetto Che io avevo Quest'estate E questo È il Claren Taint Hot Tenue Everlasting Foundation Diciamola in inglese Perché in francese Veramente Ha un fattore di protezione 15 Che non guasta mai E il colore Che usavo La scorsa estate È il Honey 110 Allora Questo fondotinta Ha un po' Le stesse caratteristiche Del Born This Way Purtroppo Non ha Un range Di colorazioni Così Così grande Come il Born This Way Ma come Qualità Come tenuta È fantastico Tiene tutto il giorno A fine giornata Con entrambi Ho ancora la base perfetta Che mi dispiace toglierla È molto molto naturale Questa è una cosa Che in un fondotinta Deve esserci Altrimenti io non lo uso Cioè Non voglio avere La pelle Effetto mascherone Non me ne frega niente Se veramente Lo vedo che Con la prima passata Mi fa questo effetto In naturale Non lo uso mai più E poi Altro fondotinta Che ho amato E questo è un altro Perfetto esempio Di un fondotinta Che ho sponsorizzato Ma che sto usando Da più di un anno Perché questo è tipo Il terzo Barattolo Che uso Di questo fondotinta E questo è L'Infallible Sculpte Di L'Oreal Questo fondotinta È un po' meno coprente Rispetto agli altri due Infatti quando avevo Un acne molto forte Non potevo usarlo Perché non è abbastanza coprente Però Ora che finalmente Quest'acne Incrociamo le dita Sembra essersene Andata E non voglio Che ritorni mai più Vi farò appunto Un video dedicato Posso finalmente Tornare ad usare Questo fondotinta Che appunto Anche se è low cost È uno dei mie fondotinta Preferiti Ha un finish Super naturale La colorazione È la Numero uno Light Ovviamente Non poteva che essere La uno light Ed è perfetta per me È appunto Finish naturale Dura fino a sera È fantastico Questo fondotinta E qui ci sono due categorie Gli ombretti in crema Allora Ombretti in crema Un prodotto Che mi sento di consigliarvi E questa è la Make Up For Ever 12 Flash Color Case Questa è la loro palette Con praticamente All'interno Sono tutti i loro colori Sono sia opachi Che glitterati Sono tutti i loro colori In crema Io ho parlato E voi lo sapete Sono stata a Parigi Per Make Up For Ever Ho parlato Con la fondatrice Di Make Up For Ever Che è fantastica Veramente È tipo un mito Lei E questa è la palette Che lei È più affezionata Perché è uno dei primi prodotti A cui lei ha lavorato E devo dire Che è fantastica L'ho usata sia come rossetto Ho usato Tipo il rosso Il blu Così un po' Colori pazzi Come rossetto Ma ovviamente L'ho usata Come primer Sotto all'ombretto In polvere Si può usare anche Come ombretto Semplicemente Io poi ci metto Sempre sopra Un ombretto in polvere Insomma Il marrone È fantastico L'oro L'argento Ma sono tutti Dei colori Fenomenali Si lo so Ha un costo Elevato Ma se volete Investire Per una palette Di ombretti In crema Che vi durerà Davvero per sempre Perché ce n'è un sacco Di prodotto Poi non avrete bisogno Di comprarne altri È sicuramente questa Alternative Low cost Ottime Questi mi avete visto Utilizzarli in diversi tutorial Sono i Watery Mousse Eyeshadow Di Deborah Milano Fantastici Costano poco La pigmentazione Non ha niente Da invidiare Tipo a quelli A quelli Make Up For Ever A quelli I Givenchy Sono veramente E poi anche le colorazioni Mi piacciono molto Questo viola in particolare L'ho usato tanto Altrettanto validi Sono i Color Shock Di Kiko Anche questi Sono fantastici Da usare Sia da soli Che sotto Ad un ombretto in polvere Anche questi Super pigmentati Bellissimi Riguardo invece Gli ombretti in polvere Allora Ce ne sono tanti Di cui avrei voluto parlare Ci sono anche Gli ombretti Mono Make Up For Ever Che mi piacciono molto Ma una palette Che ho usato davvero tanto Nell'ultimo anno È questa Che è la Naked Ultimate Basics Di Urban Decay Ci sono colori Prevalentemente Opachi È una palette Che Quando la vedi Non dici Wow Però sono effettivamente I colori che io uso Ogni giorno Colori di cui Non potrei fare a meno Ci sono tonalità Un po' più calde Un po' più fredde Questa è la classica palette Che io prendo Quotidianamente Se non ho in mente Un trucco particolare Quindi vado a prenderne Un'altra Magari con colori più pazzi Con colori più speciali Questa è quella che uso Questa è quella che porto Sempre In viaggio Altra palette Che io ho continuato ad usare In questo 2016 Non so se fosse uscita Nel 2013 Credo di sì Sicuramente Non lo so Ditemelo voi Sono pessima Veramente Questa è la Semi sweet chocolate bar Che come vi dicevo Ve ne ho parlato Veramente tantissimo Anche di questa Non mi soffermerò tanto È perfetta È perfetta per gli occhi Chiari Secondo me Ha colori stupendi Anche questa L'ho portata molto In giro Nei viaggi Ed è per questo Che non si chiude più E traballa la chiusura E poi Altra palette Che mi è piaciuta molto Questa ha colori Un pochino più particolari Quindi la uso Poi alterno Con palette Un pochino più Naturali È la Everything nice Di Too Faced Questa faceva parte Della loro collezione Natalizia Dell'anno scorso Quindi Di fine 2015 E io L'ho usata molto Nel 2016 Sono tutti ombretti Molto scriventi Molto belli Specialmente Quelli metallizzati Tipo Questo viola Sopra All'ombretto viola Di Deborah Milano Quello in crema È pazzesco Non ho usato molto I prodotti Per il viso Devo essere sincera Ma ho usato molto Gli ombretti Allora Sono tre Sono quattro In realtà I prodotti Che ho usato molto Uno L'ho finito E non ne ho uno nuovo Da farvi vedere Ma è la matita Per sopracciglia Di Diego Dalla Palma Vi ho parlato migliaia di volte Di quella matita Poi altro prodotto Che ho usato molto Per le sopracciglia Il fissatore Volvomizzante Diego Dalla Palma È praticamente Un Eyebrow gel Quindi un gel Per sopracciglia Dopo aver usato la matita A volte Sono pigra Quindi non lo faccio sempre Sono sincera Però a volte Vado ad utilizzarlo Oggi l'ho usato Una matita Che mi è piaciuta Anche moltissimo È la Come si chiama Eyebrow Pencil Facile Eyebrow Pencil Di Claren La mia È in colore Light Brown E poi Un altro prodotto Che ho usato E' la Urban Decay Gwen Stefani Palette Per sopracciglia Proprio perché È comodissima Da portare in giro Ci sono i pennellini Anche uno specchio All'interno E poi Anzi due specchi All'interno Ma questi colori Sono perfetti Per me Uso quello più chiaro All'inizio delle sopracciglia Quello più scuro Da metà Fino alla fine E Sì Mi sono piaciuti molto Poi Mascara Allora Qui devo essere sincera Voi lo sapete Io ho l'extension alle ciglia Tipo da due anni E Quindi sì Uso i mascara Ma li uso Li uso quotidianamente Ma solo sulle ciglia inferiori Quindi Non saprei dirvi Perché le mie Sono già abbastanza Corpose Voluminose Lunghe Naturalmente Quelle sotto Quelle sotto sì Quindi Uso un po' Il mascara Che mi capita Non so Non vedo Gran differenza Tra uno e l'altro Un mascara Che so di potervi consigliare Che uso Quando faccio uno smoke Pesante Voglio le ciglia inferiori Molto Ancora più Vistose È il Full exposure Di Smashbox Tutti i mascara Smashbox Hanno le fibre sintetiche All'interno E voi lo sapete Che i mascara Con le fibre Sono migliori In assoluto Perché Con le fibre sintetiche Che vanno ad inserirsi Appunto Tra le vostre ciglia Sembrerà che voi Ne abbiate di più Sembra Di averne di più Sono quindi L'effetto è molto più voluminoso E si allungano anche E poi Altro mascara Che mi sento di consigliarvi È quello Givenchy Noire Couture Quello insomma A tre palline Questo è fantastico Sia quello A una pallina Non so se lo fanno ancora Che quello A tre palline Sono fantastici Mi sono sempre piaciuti Questi mascara Vanno super precisi E allungano Volumizzano Provateli Allora Allora Matite Ne uso un po' A quello che capita Veramente All'interno dell'occhio Questo e quanto Sopra Invece Nell'ultimo anno Credo di aver usato Solo ed esclusivamente Eyeliner A pennarello Quindi Io oggi Vi posso parlare Solo ed esclusivamente Di eyeliner A pennarello E tre Ho usato molto In quest'anno Questo Allora Il primo è Ink for eyes Waterproof Precision Eye pen Di Urban Decay Questo è waterproof Teoricamente Non avrei dovuto Usarlo Mai Perché Per toglierlo Poi è veramente difficile Perché non posso usare Struccanti bifasici Altrimenti mi cadono L'extension Se è un casino Però Mi è piaciuto Tanto che comunque L'ho usato L'applicatore È super preciso Super rigido Quindi è molto facile Andare a disegnare La linea La codina Ed essere precisi Altro eyeliner Questo è low cost Ma sorprendentemente Mi ha colpita È molto molto buono È di Kiko E si chiama Out of Bounce Eyeliner pen Anche questo è molto Molto preciso Molto rigido Un tratto Molto definito Mi piace molto È molto nero E poi Altro eyeliner Io questo Ce l'ho in tutte le colorazioni Possibili Immaginabili Ma quelli che ho usato di più Sono il nero Del marrone Naturalmente Sono tipo dei pennarelli Cioè hanno anche la pallina Che si muove È anche questo Molto preciso Molto rigido Forse un po' meno rigido Rispetto agli altri due Ma anche questo Molto semplice Da utilizzare Molto nero Come tratto Insomma questi tre Veramente Sono tra i migliori Infatti ho usato Praticamente solo questi tre Nell'anno scorso Illuminanti Ne ho due Questo Make Up For Ever L'ho scoperto Soltanto a novembre Quando sono stata a Parigi Per Make Up For Ever Quindi L'ho usato appunto Due Tre mesi Mi piace molto Molto naturale Molto luminoso Ne basta veramente poco È talmente Scrivente Che si può usare Anche come ombretto Praticamente È perlato Rosato È perfetto Con la mia Carmaggione Questo è il numero 01 Si chiama Pro Light Fusion E poi Questo lo sapete Secondo me È l'illuminante migliore Di tutti i tempi È il Girl Meets Pearl Di Benefit È fantastico È Cioè Da questo Questo glow naturale Ma che si vede È bellissimo Insomma Ve ne ho parlato tantissimo Poi Allora Come blush Invece Non volevo andare per ordine In realtà Sto facendo un casino Tipico Come blush Allora Io blush Devo essere sincera Anche qua Uso un po' Quello che mi capita Non mi piacciono Quelli che sono Troppo Brillantinati Per il resto Se hanno un colore naturale Uso quello che mi capita Sotto mano Sapete che ne ho un sacco Quindi Quello che capita Mi sono ritrovata però Ad usare Molto spesso Questi tre prodotti Non so perché Questo probabilmente Perché è il più naturale Di tutti Ed è di Madame Glam È il powder blush All natural Numero 487 È super naturale Bellissimo Come colore Su di me è Il blush perfetto E mi piace moltissimo Anche questo Vi ricordate? Ricordano i polypocket Questi sono i love flush Di Too Faced In particolare questo Anche questo È opaco No è semi opaco Anche questo Molto naturale Mi è piaciuto molto E poi Altro che invece Sto usando Da quando l'ho scoperto Quindi da fine anno È il make up forever Sculpting blush Questo è il numero 18 Come colorazione Vira un po' più sul pesca Anche questo è molto naturale E un po' luminoso Il che non mi dispiace affatto Devo dirvi Perché non è troppo Non è Non è lucido Sulla pelle Quindi anche questo Mi è piaciuto molto Allora Come top coat Ho questo Da farvi vedere Che io ho comprato Per puro caso In aeroporto Perché tipo Volevo fare la manicure Quindi Mi servivano delle salviettine Per togliere lo smalto Per mettere uno nuovo Che io Cioè Io ho comprato uno smalto In aeroporto Volevo assolutamente Provarlo subito Quindi ho preso Un kit In cui c'erano Dell'OPI In cui c'erano Queste salviettine Per togliere lo smalto E c'era anche Questo top coat Rapid dry Di OPI Io Non me ne fregava niente Di comprare un top coat nuovo Perché ne avevo tanti a casa Però quando l'ho usato Ci sono rimasta E poi ho usato Sempre solo questo Che è Praticamente finito Perché si è un po' asciugato E voglio assolutamente Riprenderlo Vi giuro È il migliore top coat Del mondo A parte che è super lucido Fa Ti blocca lo smalto Te lo sigilla Molto molto bene È super lucido Ma si asciuga In un battibaleno Cioè È pazzesco Non ho bisogno Delle goccine Asciuga smalto Dello spray Perché cioè È fantastico E poi Altro top coat Che mi sta piacendo molto Questo purtroppo però Si si asciuga velocemente Ma non quanto Però è altrettanto lucido Altrettanto buono Per sigillare lo smalto È di Essie E si chiama semplicemente Top coat Molto semplice Top coat di Essie E come smalti invece Ho usato praticamente Nello scorso anno Solo tonalità molto naturali E quindi Allora Uno che ho usato moltissimo È questo rosso È un rosso puro Si chiama Rouge Di Dior È praticamente finito Non ce n'è più Ho amato questo smalto Quando mi avete visto indossare Uno smalto rosso Molto probabilmente era lui E poi Sempre per tonalità Molto naturali Ci sono Mi piacciono molto Gli smalti di oro Lo vedrete Perché ne ho quattro Da farvi vedere Sono Yacht E Palà E Royale Anche questi Quasi finiti Entrambi Molto molto belli Sia in inverno Che in estate Che in outono Sono perfetti Per tutte le stagioni Sono assolutamente Portabilissimi In tutte le occasioni Molto eleganti Non mi piace Esagerare troppo Con i colori Sulle unghie Ultimamente Quindi Ho usato molto Questi due Altro che ho usato Moltissimo E' questo Nude Di Essie Ce n'era un altro Collister Che mi piaceva molto L'ho finito Qualche mese fa E non ho più Roboccetta A farvi vedere Ma anche quello Era tipo un fondotinta Per le urghie Di Collister Buonissimo Veramente Altro però Con cui mi trovo bene E' il Soumy Numero 30 Di Essie Che è quello Che sto indossando Adesso Che mi avete visto Indossare Anche nell'ultimo Get Ready With Me E poi Altro smalto Che ho usato Molto Davvero molto Specialmente in Autunno Inverno E' il Nuit Questo Non so pronunciare In francese Nuit Questo è un Prugna Scuro E' quasi nero Ma non è nero E' bellissimo Questo è un po' Il colore Della stagione E poi Altro che Ho usato Molto Però questo L'ho usato Praticamente Per le feste Natalizie Perché faceva Parte della Collezione Natalizia Di Diego Della Palma Questo è Il Burgundy Che è Questo è Il perfetto Smalto Natalizio Per me Perché è Scuro E appunto Questo color Borgogna Ma ha Tantissimi Rifless Brillantinati Prima di arrivare I rossetti Un prodotto Di cui vi ho Parlato In qualche video Ma devo assolutamente Inserirlo Tra i preferiti Perché è stata Una vera Propria scoperta E' l'Instamat Di Smashbox Questo prodotto Trasforma Qualsiasi Rossetto Gloss Qualsiasi Prodotto Labbra In un prodotto Opaco Ma molto Opaco E fantastico Quindi Con questo Ha una vita Propria Quindi Con questo Sono riuscita A trasformare Rossetti Che amavo Ma che non erano Opachi In rossetti Opachi E quindi Insomma E' pazzesco Questo prodotto Veramente Non ne conoscevo L'esistenza Quindi quando L'ho scoperto Sono impazzita L'ho usato Molto Ad esempio Ecco Per farvi un esempio Con gli Artist Rouge Cream Soprattutto Con quelli Nude Che adesso Sono imboscati In qualche Borsetta Quindi Veramente Non li trovo Sono di Make Up Forever E sono I loro Rossetti Ultimi Mi hanno spedito Tutto il kit Con tutti I loro Colori E sono Uno più Bello Dell'altro Super Super Belle Le colorazioni Super Pigmentate Ma Ahimè Non tutti Anzi Pochi Sono opachi E quindi Ho usato Molto L'Ista Matte Sopra Questi Rossetti Un'altra Colorazione Molto Bella Un sacco Ma che purtroppo Su di me Fa effetto Morticia Adams Altro Questi sono Comfort Matte Sono definiti Comfort Matte Questo è il Criminal E di Urban Decay Dei loro Rossetti Vice Questo è il mio Preferito E un rosa Viro un po' Sul lavanda Forse sulla mia Carnagione Se siete un po' Più scuri Invece Forse Il sottotono Lavanda Non si vedrà Ma è bellissimo Questo colore Spesso Quando lo indossavo Mi avete chiesto Di che colore Si tratta Quando succede Devo dire Che mi sta bene Questi Tanto Mac Faux E Kinda Sexy Ho continuato Ad amare Questi prodotti Continuo a ricomprarli Sono fantastici E poi Per quanto riguarda La NYX Invece Hanno lanciato Dei rossetti Stupendi Veramente bellissimi Quelli che vi piacciono Di più Sono i NYX Lingerie Non trovo Questo è il numero 05 Tipo un marrone Nude Bellissimo Altro Splendido Questo non è opaco Ma lo faccio Diventare opaco Con Instamatte Altro Splendido E il liquid Suede Sempre appunto Di NYX Ma questo invece è opaco E fantastico Poi per finire Un altro rossetto Che ho amato E questo di Dior Che è il Rouge Dior 962 Poison Matte Questo è non opaco Di più È veramente Il rossetto più opaco Che esista Anche questo Un po' il colore Della stagione L'ho abbinato Molto Allo smalto Nui 1947 È fantastico Veramente Su tutte le carnagioni È bellissimo Questo colore E quindi Questo mi sa Proprio che è Quanto Spero che vi sia piaciuto Questo video Naturalmente Se avete qualche preferito In comune Con me Scrivetemelo Oppure scrivetemi Quali sono i vostri preferiti Se voi avete avuto Un prodotto pazzesco Che io Non ho ancora scoperto Cioè scrivetemelo Nei commenti Oppure scrivetelo Per le altre ragazze Che mi seguono E niente Baccio Gigantissimo E alla prossima Ciao Ciao Ciao